se siete stufi delle vostre squadre e avete voglia di farvi la squadra dei vostri sogni passate da venditi crediti fifa foot link in descrizione bella a tutti ragazzi siamo tornati su the challenge of the championship io sono smile e qui con me c'è stark bella ragazzi oggi giocheremo con il campionato austriaco rapide vienna salisburgo mamma è un campionato bellissimo e ovviamente rapid vienna smiley il salisburgo sono io stadion olympic lo stadio olimpico immaginiamo che se lo stadio olimpico non è fuori gioco non è fuori gioco tiro ora il fortiere vai schieniamo subito con il numero 9 è proprio lui è un fenomeno adesso è però se schifi giochiamo fenomeno hai detto si è un fenomeno è un fenomeno eccolo ancora beric è un fenomeno è un fenomeno non è lui però è forte lo stesso io so che tu sei forte off man ma come avevo fatto uscire oh no no perché me ne sono andato così a voi mi avevo giocato era più lento della oa che culo cosa sta succedendo che è successo ok apposta finisce il primo tempo subito due colpettine all'inizio commenti niente sono di solito culo salito culo queste sette punti a uno si inizia il secondo tempo facciamo due gol come prima dai veloce 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 noi però noi però no ma do che piedi storti all'anima ma donna mi rottamiamo lì se ne va provo un tiro al giro fantastico no ma ma non me lo chiederà a me mi gioco fallaccio gerammonito si non lo so che a me non mi piace il puntatore sì sotto la doccia ragazzo sotto la doccia numero del bomber numero del bomber beric un fenomeno non c'è il bomber di turno ecco la gufata le mie gufate infatti questa è centrocampista 2 a 1 Gostanto si riapre la partita al settantacinquesimo ricordo che per me anche un pareggio va bene perché ecco beric no non è bello dove sono capitato ma si senti ma forza è matematico no è fortuna e fare già il novantesimo con colpo di testa vincente di alan ma tu sei esagerato 8 a 2 manteniamo le sei i sei punti di distanza ragazzi un video si può concludere qui come sempre lasciato un like commentate condividete iscrivetevi al canale noi ci vediamo il prossimo video un bel like per il mio culo ci vuole non bella iq espulsione a mai vengono i grampi posso piccoli commenti che tutto questo al cade al 62esimo smiley sta morendo per i grampi quasi stesse giocando lui addirittura io soffro con la mia squadra con Hoffman stai soffrendo ciao Grazie a tutti.